Che anno quel 69? Si arrivò sulla Luna e si decise di smettere di dare la caccia ai UFO, agli oggetti volanti non identificati, sembrava non ne valesse proprio più la pena. Da quel momento è cominciata una corsa continua alle bufale e alle pellicole, sull'argomento. Hanno invaso i cieli di celluloide e poi i web, l'ultima volta mi pare due anni fa, rimbalzata una storia secondo la quale il Pentagono avrebbe nascosto prove di oggetti volanti non identificati sui cieli d'America e non solo d'America. È la dimostrazione che non ci rassegniamo all'idea di essere soli, sulla faccia dell'universo, non solo della terra e questo significa che non dovremo smettere di indagare anche se investigazioni come quelle che vennero condotte in quegli anni ormai lontani si sono dimostrate inutili o almeno sono state segretate in modo tale che noi giornalisti non ve ne racconteremo mai.